Papà, addio, cosa facevo prima di creare il mondo? Grazie per la visione! Non andare mai in a curare i parenti ammalati di tifo. Io ci vado, papà. La tua casa è ancora questa, ricordatelo. Dovrai allontanarti per un po' di tempo, almeno finché non si calmeranno le acque. Vi ho riportato Maini! Sì! Tra un mese, Don Bosco verrà a Mornese con i suoi ragazzi. Don Bosco! Cos'è questo che vedo? Dovete decidere se volete essere suore. Dovete decidere se volete a Mornese con i suoi ragazzi.